Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Avistato e filmato nel mare Adriatico uno squalo di 8 metri Giro di vite della Polizia Municipale di Cartoceto Autovelox in azione e controlli nelle isole ecologiche Furti, atti vandalici e pericoli in strada I residenti di Sassonia di Fanno chiedono telecamere di videosorveglianza E un cambio di viabilità Buonasera cari telespettatori di Occhio alla Notizia Lo avete sentito nei titoli Uno squalo elefante di 8 metri è stato avvistato in pieno mare Adriatico A largo della costa di Cervia Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Si nutre principalmente di microplanton marino E nonostante le dimensioni non rappresenta un pericolo per l'uomo Ma di certo a vederlo così incute un certo timore A scorgere e riprendere uno squalo elefante Cetorinus maximus a 6 miglia dalla costa di Cervia Nel mare Adriatico è stato Alberto Fusaroli Socio del circolo nautico Amici della Vela Un insolito incontro ravvicinato Con un esemplare lungo circa 8 metri Considerato il secondo pesce esistente più grande al mondo Dopo lo squalo balena Nel video che è stato caricato su Youtube E che testimonia l'avvistamento Lo si vede nuotare serenamente Un po' meno tranquilli Come si nota dai commenti lasciati sui social network Sono alcuni cittadini e turisti Che nonostante siano consapevoli della sua tranquillità Preferiscono non entrare in acqua Al contrario c'è chi ironizza scrivendo Tutti i giorni siamo circondati da squali molto più pericolosi di questo Ciao ragazzone E la polizia di Urbino ha arrestato un 23enne di Fermignano Che a bordo della sua moto percorreva ad alta velocità le vie del centro cittadino Durante il controllo è emerso che non solo il giovane non aveva patente di guida Ma che il veicolo era senza assicurazione E non è mai stato immatricolato E quindi privo sia della carta di circolazione sia della targa Il mezzo è stato confiscato Il 23enne dovrà pagare una multa di diverse centinaia di euro E la polizia municipale di Cartoceto invece ha intensificato i controlli Anche con telecamere nascoste Sia per la circolazione stradale sia per la raccolta differenziata Dopo le spiegazioni del maggiore Fabio Mazzi Sentiremo anche che cosa ne pensano i residenti Raccolta differenziata corretta e rispetto del codice stradale Questi gli obiettivi della polizia municipale di Cartoceto Che ha annunciato un aumento dei controlli a partire dallo smaltimento dei rifiuti Un modo questo che consente di sostenere i tanti cittadini Che si impegnano quotidianamente E grazie ai quali sin dal 2011 Cartoceto raggiunge percentuali di raccolta superiori al 70% Ricevendo il premio di comune riciclone L'attività come spiegato dal maggiore Fabio Mazzi Responsabile del corpo Consiste nel sanzionare i casi di irregolarità Segnalati sia dagli operatori ecologici Sia dagli agenti Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza E' stato annunciato un giro di vite Che cosa prevede questo piano di controllo? Cioè non è che è un giro di vite A grandi linee questi controlli li abbiamo sempre fatti Però con non sappiamo ancora la data certa Con il passaggio alla tariffa puntuale Si prevede all'inizio un incremento degli abbandoni sul territorio E quindi cerchiamo di limitare sin da subito questi spiacevoli inconvenienti Praticamente controlliamo noi personalmente Prima di tutto le varie isole ecologiche Poi abbiamo della videosorveglianza quella generale Ma anche una videosorveglianza più mirata Praticamente sono delle telecamere mobili nascoste Che possono essere sia in abitazioni Sia insomma sono nascoste Non si vedono e non si possono Anche se ci sono dappertutto i cartelli di avviso di aria sorvegliata Se notiamo in quel periodo degli abbandoni indiscriminati O al di fuori del regolamento Andiamo a visionare le immagini e sanzioniamo o i veicoli o le persone Anche per quanto riguarda la circolazione stradale Soprattutto a seguito di incidenti che avrebbero potuto avere conseguenze peggiori L'attività dei vigili si sta rilevando costante e capillare Per quanto siamo solo in cinque ma facciamo due postazioni giornaliere Sia al mattino che al pomeriggio con il telelaser Sempre a rotazione sul territorio comunale di Cartoceto e di Monbaroccio Sarei molto contenta Visto che io in cima alla strada ho proprio una discarica a cielo aperto Proprio ieri ne parlavo con il mio compagno È una cosa vergognosa È vero che c'è la gente molto incivile Perché se no la raccolta sinceramente per quello che mi riguarda funziona Perché qui al martedì vengono a prendere i rifiuti E io tutti i martedì, i secondi martedì ogni mese mi ricoli Quindi il modo di fare bene c'è Però purtroppo qui è l'inciviltà della gente E magari ci fossero e venisse punito chi è che veramente butta Io in cima alla strada mia, la settimana scorsa c'era un coniglio morto Ci hanno lasciato Siamo proprio... è la gente purtroppo che è incivile Veramente, io la dà spasso col sacchettino per il cane e tutto Ma molta gente, la maggior parte della gente non lo fa Non ne ho saputo niente Comunque non è un male che ci sia un maggior controllo secondo me Visto che comunque chi guida e telefona E' sempre comunque un problema per tutti Allora preferibile che i controlli ci siano Per quel che riguarda diciamo Poi anche sul discorso rifiuti Beh, sinceramente vedere in giro i cumuli dell'immondizia Non è piacevole Quindi meglio se c'è controllo Ed ora occupiamoci dello Scimitar Il ristorante galleggiante che ha trovato un nuovo posizionamento All'imbocatura del porto di Fano Marco Pezzolesi, oltre a rispondere alle critiche Per quanti non sono d'accordo con questa nuova ormeggiatura del Natante Rilancia e fa una controproposta all'amministrazione Proponendo la pedonalizzazione durante il periodo estivo Sentiamo le sue dichiarazioni C'è chi apprezza e chi invece sostiene che lo Scimitar in questo punto Possa coprire la visuale La nave galleggiante del pesce azzurro E' stata spostata qualche giorno fa Alla banchina 8 del porto di Fano Per permettere le riparazioni necessarie Dopo i danni provocati dalla mareggiata del 6 febbraio scorso Oltre a questo motivo E' stata pensata una location diversa Affinché il fast food potesse diventare un punto caratteristico della città Ma per ora, come spiega l'amministratore unico Marco Pezzolesi Il posizionamento all'imbocatura del porto è solo a titolo provvisorio Si stanno eseguendo infatti tutte le procedure per capirne l'impatto Mi pare che da parte della cittadinanza ci siano commenti molto positivi Almeno quelli che pervengono a me La Capitaneria di Porto e il Comune di Fano stanno facendo le pratiche in via provvisoria Al momento siamo in attesa di sapere se ci possiamo restare Oppure se dobbiamo ritornare nella vecchia collocazione Ma a chi dice invece che potrebbe coprire la visuale del porto che cosa risponde? Ma che assurdo, è come se i problemi del porto di Fano siano adesso rappresentati dall'Oscimita Io credo che l'Oscimita posizionata qui dove si trova attualmente Sia un'attrazione ulteriore per tutta la città Sicuramente ne trarrebbe vantaggio anche la gestione dell'Oscimita Ma io credo ne trarrebbe vantaggio a tutta la città E quando sento parlare di parcheggi Considerato che l'Oscimita lavorerà solo alcuni giorni settimanali Nell'estate e nelle ore serali Mi pare che già i parcheggi non ci siano già da sempre qui Quindi penso che la clientela sia per l'Oscimita che per altre attività Dovrà parcheggiare altrove Magari nei piazzali dove è sempre parcheggiato davanti al mercato itico Davanti allo stabulario o al pesce azzurro E poi cammina la clientela Pezzolesi inoltre ha lanciato una proposta all'amministrazione comunale di Fano Se si vuole veramente creare qualcosa di accogliente e di bello per la città In quelle ore serali del periodo estivo Sarebbe bello per tutte le attività economiche della zona Addirittura chiudere il transito alle auto e renderla tutta pedonale Così da Lido da creare un percorso unico appunto da Lido Fino al pesce azzurro Ovviamente non negli orari quando ci sono le attività della pesca mattiniere Però la sera sicuramente nel periodo estivo sarebbe una bella cosa Che darebbe vantaggio a tutte le attività che ci sono E un'altra scritta contro le forze dell'ordine è apparsa a Sassonia di Fano Dopo quelle ripulite a titolo volontaristico da regresso arti all'anfiteatro Rastad e a Lido di Fano È stata imbrattata con gli stessi simboli la struttura della piscina comunale Felice Ricci E rimaniamo in Sassonia perché i residenti di quella zona denunciano continui furti e atti vandalici Vediamo Oltre ad aver rubato in qualche abitazione non hanno risparmiato Sellini e ruote delle biciclette posteggiate lungo via della Marina Sassonia di Fano Una signora ci racconta che è ben la decima volta che accade alla sua famiglia Stanchi della situazione i residenti chiedono per il fine settimana più controlli Da parte delle forze dell'ordine e telecamere di videosorveglianza nei punti strategici Questo è il fulcro del vandalismo, qui succede di tutto Io al sindaco sede chiedo un protocollo Siccome tutti i sindaci hanno il protocollo contro gli atti vandalici E consiste in questo, a mezzanotte di non dare più da bere alcolici ai ragazzi Evitare i gruppi di 20-30 persone perché qui arrivano addirittura gruppi di 20-30 persone E si sa che quando la gente è in gruppo riesce a dare tutto se stesso contro il patrimonio e anche le cose private E installare le telecamere nei posti fulcro dove c'è il passaggio delle persone I problemi però non sono solo questi Infatti come ci spiega il signor Aurelio Da quando è stata cambiata la viabilità dalla vecchia amministrazione Le strade sono diventate pericolose per tutti In particolare per pedoni e ciclisti Che cosa serve qua? Servono delle strisce passaggio pedonale Perché qui se no quanto si esce dalla scuola è un gran macello Perché ci sono tantissime macchine che vengono giù E noi con i bambini a mano siamo sempre a rischio Inoltre pensava anche che sarebbe una cosa necessaria cambiare la viabilità Per quale motivo? Perché qui gli fanno i mener su in Viale Dante Lighieri In Croce via della Marmarina Gli obbligano ad andare verso mare Verso mare vanno sopra la pista ciclabile E in più poi verso mare gli obbligano ad andare verso Pesaro Poi cosa fa la gente? Non essendoci posti in macchina niente Rigira e un quarto d'ora dopo inseriscono e ritrovi qui O se no moltissima gente insomma marcia dietro e viene su E sono partiti questa mattina da Porta Maggiore I motociclisti dell'associazione Bikers for Life di Fano Per la quarta spedizione umanitaria Dopo essere stati in Polonia, in Romania e in Tunisia Giovanni Giomi e Giovanni Marino Consegneranno all'ospedale pediatrico dello Yerevan Capitale dell'Armenia Attrezzature sanitarie donate da medici e aziende Alcune camuffate da giocattolo per non spaventare i bambini E dalla scorsa settimana il servizio vaccinazioni dell'area Vasta 1 E' stato trasferito a Rosciano di Fano La nostra redazione è andata a visitare i nuovi locali Vediamo Nell'ambito della riorganizzazione delle attività in area Vasta 1 Per ottimizzare le risorse sia materiali che umane Si è conclusa dopo Pasqua la fase dei trasferimenti per il servizio vaccinazioni di Fano Dal Palazzo di Vetro in via 4 a novembre A Rosciano in via Paolo Borsellino numero 4 La stessa sede del Dipartimento di Prevenzione Un punto di eccellenza anche per la profilassi internazionale La vaccinazione è il persidio più importante da un punto di vista della prevenzione Scientificamente è dimostrato con la dedicazione anche di alcune malattie E il controllo della gravità delle malattie infettive Quindi di fatto i risultati ottenuti con le vaccinazioni da un punto di vista della salute pubblica Sono sotto gli occhi di tutti E' chiaro che deve essere anche un ambiente adeguato Un ambiente che abbia un'accoglienza soprattutto nei confronti dei bambini Che si ritrovano per la prima volta ad essere inseriti in un ambiente di carattere sanitario Quindi da questo punto di vista questa nuova struttura Questa nuova realtà che abbiamo creato L'Asura ha creato Diciamo che rispecchia quelli che possono essere i criteri moderni e nuovi Di accoglienza anche dei bambini Nei confronti di una pratica così importante come la vaccinazione Nei nuovi locali è stato dato ampio spazio alla sala d'attesa Con un angolo dedicato ai bambini Dove possono giocare e leggere libri Il front office invece potrebbe essere utile anche per gestire eventuali situazioni di emergenza Sono previsti inoltre due percorsi Con altrettanti ambulatori vaccinali e medici Il medico effettua l'anamnesi La visita se del caso del bambino Parla con i genitori Illustra i vantaggi in un certo senso della vaccinazione L'importanza della vaccinazione E sottolinea anche eventuali piccoli problemi che possono nascere E va a fugare quelli che possono essere i timori Oggigiorno talvolta Ecco sottolineate dei genitori che magari leggono Tra virgolette notizie forvianti O comunque non corrispondenti al vero Ecco su internet e su altri mezzi di informazioni Quindi cerchiamo di instaurare un rapporto di serenità con i genitori Successivamente il bimbo con la mamma si reca nella sala vaccinale Dove sono le nostre istante sanitarie La quale provvedono a vaccinare A registrare la vaccinazione E dare direttamente l'appuntamento Per la vaccinazione successiva Che viene annotata direttamente La prima vaccinazione Invece quella riferita appunto ai bimbi appena nati Ecco noi chiamiamo appositamente con una lettera a domicilio Dandogli uno specifico appuntamento Il nuovo recapito telefonico della segreteria del servizio vaccinale È lo 0721 86 89 86 Mentre il fax è lo 0721 86 89 83 È possibile prenotare nelle giornate di mercoledì Dalle ore 11 alle 13.30 E il giovedì dalle ore 12 alle 13.30 Ancora una volta il liceo artistico a Polloni di Fano Apre le porte della sua scuola Un ciclo di conversazioni, concerti e approfondimenti Il prossimo incontro pubblico è previsto per domani Alle ore 18.15 con l'artista argentino Abel Zeltman E ancora una centenaria nella nostra provincia Si chiama Emiliana Baldelli Pesarese ha tagliato il traguardo dei 100 anni Festeggiando anche con il sindaco Matteo Ricci È stata una vita di impegno e lavoro Dedicata alla casa e all'agricoltura Nei campi di Villa Fastigi I discendenti hanno pensato di ringraziarle Anche in modo istituzionale Coinvolgendo il primo cittadino Di qui la visita nella mattinata Nella casa di Via Finali Candidata da un mazzo di fiori E da riflessioni su longevità femminile del territorio E contributo delle donne alla crescita della società Ed ora chiudiamo parlando di sport La società Sconsult Invest Pesaro Basket di Serie A1 Si allenerà giovedì 16 aprile Al palazzetto dello sport di Fano Salvatore Allende L'allenamento che avrà inizio alle ore 16.30 È stato reso possibile grazie all'invito Della società locale di Basket Fanum Bene, con quest'ultima notizia di sport Chiudiamo qui questa edizione di Occhio alla Notizia Come sempre, se vorrete, noi saremo qui puntuali Domani alle 20.30 Buona serata a tutti voi Grazie a tutti